Prima di iniziare ragazzi vi volevo invitare a passare da EasyFIFACoins se siete interessati a comprare credi di FIFA Perché infatti un macello di voi mi hanno consigliato questo sito quindi sono andato lì a visitarlo un attimo E mi è piaciuto un macello mi sono fatto anche dare un discount code che è AXELCON2 Quindi mi raccomando se vi interessa comprare credi di FIFA passate da EasyFIFACoins E detto questo godetevi il video Potente appare ragazzi qua AXELOG OMG oggi non sono da solo perché infatti sono in compagnia di un ospite specialissimo Ma chi è? Chi sarà Mike? Ciao a tutti ragazzi sono Mike Shosh e sono oggi qui sul canale di AXEL per un Double or Nothing Ebbene sì perché infatti abbiamo appena disputato una partita che troverete sul suo canale Per andare sul suo canale è semplicissimo O cliccherete adesso sulla sua faccia Oggi per tutto il video oppure troverete il link sul suo canale in descrizione Però Mike spiegaci un attimo cosa è successo nella prima partita e perché stiamo qui a presentare un Double or Nothing Allora ragazzi andate a recuperare la partita di andata di questo wager match E' stata una partita glamorosa, incredibile, direi quasi anche mafiosa Quasi, quasi mafiosa Quindi ragazzi è successo che abbiamo messo, ho messo in paglio Robin Totti e o Axel ha messo in paglio il suo Sergio Ramos e Tony Cross E' andata a finire come è andata a finire Quindi lui metterà in paglio in questa partita Robin Team of the Year che ha già messo in paglio in quella scorsa In più Neuer Team of the Year Ragazzi E se noi vinceremo lui ce li dovrà dare entrambi Se invece perderemo non succederà assolutamente niente Non succede niente e mi riprendo il mio pelatone Team of the Year blu Mi sento carico Dobbiamo Dobbiamo Pranamente perché bisogna dire che in questo momento il Mike era un po' andatello Comunque Un po' incazzatino La sua squadra è fantastica 4-3-3 Non è vero 3-4-3 inizia a essere dislessico Neuer Sì sì Ho messo Ciao a tutti Ho messo la mia formazione che ho utilizzato anche l'altra volta Però ragazzi la violenza ai videogiochi non la fanno GTA sti giochi così ma la fa FIFA FIFA Guardate un po' infatti ieri cosa mi ha comportato Fortunatamente non andava già però Trank Siamo partiti Vai Tu ci sei Vai Boom Palla lunga e pedalare E ci arriva E ci arriva Palla lunga e pedalare stile StarCover Cos'è? Oh la presa Addirittura la prende Vai Noi andiamo avanti con Perez 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 Palla per Rodrigo Bello Come giocano qui Addirittura l'arbitro Il calcio scia Interasire anche lui con noi Il calcio champagne Il calcio che ci piace Via Palla lunga e pedalare Vai vai Attenzione Alieno Cerci 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 è rientrato Madonna Non va Non va ragazzi Bello Madonnina Cos'è? Spazza L'avevo buttato L'avevo buttato Ma perché non l'ha spazzata? Oh è andato È andato Attenzione Attenzione Non ora È passato Oddio Levanta schifo Oh mio dio Mamma mia Cosa stava per fare? Eh ma ho visto il pelato L'ho visto il pelato Eh il pelato no Il pelato no Il pelato no Oddio Oddio Cosa stava per fare? Ragazzi Segniamo così Devo dire che ci sta un po' arando Sì sì Ecco Già ora arriva Ehi barbo Noia C'è noia C'è noia C'è noia Che noia Che noia Cris Madonna Il jaguaro Come mi ha fermato Il jaguaro E lo lanciamo E lo lanciamo E lo lanciamo Ma non ci siamo NCS Non ci siamo Tagliogli quella palla Dai che siamo al 45esimo Minuto tanto caro per il nostro Mario Eccolo Minuto Carissimo Carissimo Ibarbo No Ho provato lo sfondamento Col pisellone Oh Oh attenzione C'è il pertuggio Arbitro fischi Ponga fino al match No al primo Eh vabbè Ma qua Ma no Ma non dobbiamo prendere sti gol C'è l'ho fatta ragazzi C'è l'ho fatta Guarda Avevo notato Ero in black Non si vedeva niente Ma Spezzo Spezzo la lancia Spezzo la lancia A favore di Oaxel Perché questo È un gol baggato Giusto Ma fa niente dai Fa niente Io non mi arrabbio Ma adesso Miei cari iscritti Cosa stiamo per mettere La pici mode L'avete sentita E adesso andiamo Beh Intanto Noi abbiamo messo la pici mode Noi abbiamo messo la pici mode Noi l'abbiamo messo No no Oh no Senti Era da rosso Era da rosso Porca di quella miseria Era andato via Il nostro barbo No no io l'ho visto Potevano giocare in dieci contro No no Meno male Meno male Siamo ancora in Madonna Non lo farai così No Enzo 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 Si sono fatti fallo da soli Tutto il suo spazio libero Oh Oh No E se è Rodrigo 1-1 E c'è il corti Rodrigo Lo riprendiamo Ike Mamma mia Ci ha lasciato lo spazio C'è lì Lì non si lascia lo spazio Ragazzo E così E così E il barbone Wow Bello 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 Avanza Si Tira Madorca Il nuovo che avanza Meno male No No ho detto meno male Non può farmi gol No cosa sta succedendo lì dietro Si aiutano da soli Questo si chiama gioco di squadra No No Io lo sento E' nell'aria Te lo dico io E' nell'aria Bella E l'ho pure deviata E gli è arrivata meglio Ma si può Oddio Porca di quella E questo era nell'aria Che succede Sei vivo Eh l'ho detto Lo sentivo C'è il gol Dai gaulo Riprendiamoci So che è nostro Era nell'aria Porca di quella vacca Bel tiro a giro Così ciao Porca di quella vacca E' fulmine No No E' fulmine No Le l'ha presa Le l'ha presa E' un segnale Attenzione E' un segnale E' un segnale No No E' vera Vai ragazzi Madonna che malata Sono segnali questi Dobbiamo andare Dai Vada via anche il Va Ma vada via anche il Via Guardi No ragazzi Che cosa fai Che cosa fai Dai 89esimo Pronti Oh No 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 Ragazzi pronti No perché a lui Perché a lui Cristo No 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 Si 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 No 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 Via di diecia Fucillo Andiamo in dieci Non me ne prende niente Votalo Ragazzi il gol al novantesimo Il gol al novantesimo Victori No No Che cacchio Oddio Fermatelo No E' andata E' andata C'è farlo No 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 Giaguaro Guaro Guaro Non ci credo E' andata E' andata No No Ragazzi Avete appena assistito A una partita epica Io qua lo dico Lo dico qui Sto rosicando come un maiale Lo dico qui ragazzi Se questo video arriva a diecimila mi piace facciamo un rematch senza possibilità No perché è giusto ragazzi la prima partita o Axel l'aveva vinta quindi è giusto ragazzi che lui abbia la sua rivincita E' una a uno dobbiamo fare la bella a diecimila mi piace facciamo la bella Diecimila mi piace facciamo la bella ma ragazzi No ci dobbiamo arrivare ragazzi perché questa è stata una partita epica Termi L'ultimo tiro l'ultimo tiro era qualcosa di fantastico Comunque ragazzi detto questo lasciate un bel mi piace Ne vogliamo diecimila Devo sentirvi Dio santo lo dobbiamo arare alla prossima Lo dobbiamo arare come abbiamo fatto più e più volte Comunque detto questo Io ho più niente da dire Spero che il video vi sia piaciuto Sì ragazzi diecimila mi piace per forza e facciamo la bella E la bella sarà veramente molto bella Speriamo Io Comunque detto questo io vi O meglio noi vi salutiamo Io vi dico potente a fare il prossimo video da Axel Ciao ragazzi Ciao Ciao a tutti